Eccoci, buonasera, riprendiamo il discorso praticamente da dove l'abbiamo lasciato nel nostro speciale di questo pomeriggio. Vi volevamo e vi vogliamo documentare la conclusione se ci sarà di questa crisi di governo. Oggi le consultazioni lampo, rapide e essenziali del Capo dello Stato, lo sono state tutte fino all'ultima, perché praticamente da più di un'ora insieme al Presidente della Repubblica c'è la delegazione del PD che è guidata dal Vice Secretario Enrico Letta e che è arrivata da Napolitano col mandato di un'attesa, anche se breve direzione, del Partito Democratico in cui l'idea di affidare a Napolitano il consenso per un governo che sostanzialmente sarà politico con la presenza di esponenti sia del PD, sia del PDL, sia di scelta civica. Questa decisione è passata con 7 voti contrari e 14 astenuti su più di 220 partecipanti alla riunione. Da più di un'ora si aspetta che quella porta si apra perché dopo la delegazione del PD sostanzialmente ci sarà la decisione di Napolitano. Vi dico subito che il fatto è che sembra, ci prendiamo la responsabilità di quello che diciamo, che il nome di Matteo Renzi che nella mattinata veniva dato per probabile, l'avete probabilmente già trovato sui giornali di questa mattina, è rapidamente sfumato per quello che parrebbe essere un veto arrivato da uno dei possibili partner della coalizione di governo, chiamiamola così, che sarebbe il PDL e proprio Berlusconi. Nessuno confermerà probabilmente questa tesi che abbiamo verificato e tra l'altro la nostra Sardoni proverà a chiederne conto a Enrico Letta quando dopo aver comunicato l'esito da parte del PD dell'incontro con il Capo dello Stato si sottoporrà alle domande dei giornalisti. Ma insomma è stata una giornata importante che vi racconteremo tra poco nel telegiornale in cui sentiremo anche dell'attacco duro, ennesimo di Grillo, che tra l'altro oggi ha pubblicato i dati numerici delle cosiddette quirinarie. Rodotà aveva ottenuto circa 4.700 voti, arrivando terzo, come ricorderete, dietro la Gabanelli e Gino Strada. Ma vedendo anche altre notizie, ve ne cito soltanto una prima di andare direttamente ai titoli, che la Francia, il Parlamento francese ha detto definitivamente sì al matrimonio gay, alla possibilità degli omosessuali di compiere adozioni. Andiamo ai titoli. Una giornata di serrate consultazioni al Colle per arrivare alla formazione del nuovo governo che sarà un esecutivo politico. Napolitano tiene la disponibilità alle larghe intese da PD, PDL e scelta civica ma non convince la Lega. A sorpresa, selle il Movimento 5 Stelle, come già sapevamo, che si schierano all'opposizione. E tra poco si dovrebbe conoscere il nome del presidente incaricato. Giuliano Amato e Enrico Letta restano i favoriti, dopo che a quanto pare il nome molto gettonato di Matteo Renzi è stato bloccato da un veto del centro-destra. Daremo il massimo sostegno al capo dello Stato e al premier designato, dice però Berlusconi. E proprio mentre le delegazioni dei partiti salivano al Colle, il PD ha riunito la direzione per una prima resa dei conti dopo il flop dell'elezione per il Presidente della Repubblica. Bersani conferma le dimissioni e accusa bisogna rimettere in ordine nel partito. C'è anarchismo. Messo in volta il documento, pieno sostegno a Napolitano che passa a maggioranza ma rimane forte il dissenso potenziale. Durissimo Grillo che sulla rielezione di Napolitano ribadisce è stato un subdolo colpo di Stato. In un'intervista al quotidiano tedesco Bild Zeitung prevede tempi cupi per l'Italia. In autunno ci sarà la bancarotta, ha detto Grillo. Mentre il Movimento 5 Stelle diffonde i dati delle cosiddette quirinarie i votanti sono stati poco più di 28 mila incomplensivamente. A Rodotà erano andati 4 mila, 677 voti. Sui mercati europei prevale l'euforia, tutte le borse in rialzo. Milano con Piazza Affari che guadagna quasi il 3%, complice anche l'imminente soluzione politica per la formazione del governo. Ne beneficia anche lo spread che scende ai minimi da febbraio attorno ai 270 punti, con i rendimenti dei BTP sotto il 4%. Banca Italia avverte troppe tasse pesano sulla crescita. Con 331 voti a favore, 225 contrari, 10 astensioni, l'Assemblea nazionale francese ha detto definitivamente sì alla legge sui matrimoni gay e sulle addizioni per le coppie omosessuali. Dopo l'annuncio per la protesta, la grande maggioranza dei deputati dell'UMP, il principale del partito dell'opposizione, ha lasciato l'aula per poi annunciare un ricorso alla Corte Costituzionale. Anche il mondo cattolico annuncia battaglia. La Francia è il 14esimo paese a dire sì, il nono in Europa. Buonasera, doveva essere in questo momento già noto forse il nome del Presidente del Consiglio. All'indomani della forte riconferma da parte di Giorgio Napolitano della necessità di fare un governo e di trovare delle intese. Parole come intese, accordo, non devono essere demonizzate tra forze politiche diverse, l'ha detto il Capo dello Stato. E oggi a quella tesi sono convenute anche i partiti più importanti, tra quelli indiziati di poter fare una coalizione. Il PD, il PDL, scelta civica, mentre è arrivato il no complessivo della Lega che si unisce a quelli di SEL e Movimento 5 Stelle. Ma, vi dicevo, a quest'ora poteva esserci già il nome, se non che siamo in attesa da più di un'ora della conclusione del colloquio tra la delegazione del PD, arrivata al Quirinale direttamente dalla direzione del partito che era riunita, e il Capo dello Stato stesso. Quello che si è detto è che durante la giornata un nome che era affiorato e che aveva avuto numerosi consensi nel principale partito del centro-sinistra, quello di Matteo Renzi, sia stato stoppato perché il centro-destra avrebbe detto tutti, ma non lui. Intanto la cronologia. Il PD vince se gioca all'attacco, come dimostra il risultato. E come si gioca l'attacco? Secondo me, ad esempio, chiedendo a Renzi, se se la sente, di essere lui a chiedere l'incarico. Sono le dieci e mezza di sera del giorno del giuramento bis di Giorgio Napolitano e Matteo Orfini, giovane turco del PD, ufficializza mediaticamente la candidatura di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Il sindaco di Firenze diventa da quel momento il nome più gettonato, scavalcando di slancio i due fino a quel momento considerati in corsa, Giuliano Amato ed Enrico Letta. Il dottor Sottili, arrivando questa mattina ad un convegno nella scuola superiore Sant'Anna di Pisa, si schernisce con il tradizionale humor. No, nessuno ha telefonato, nessuno mi ha telefonato. Mi hai telefonato? No, no, no. Poi i telefoni qua non ricevono. Dobbiamo chiamarla Presidente del Consiglio? Io lo sono stato, in base alle regole italiane c'è un semel semper. Mi chiamano sempre Presidente. Io mi riferisco al tennis club di Arbetello. E' rimasto famoso per questo prelievo sui conti correnti di Gagliani. Basta, guardi, basta. No, no, scusate. Si potrebbe ripartere? No, scusate. Si potrebbe ripartere? Quanto c'avei in banca? Mi dica, mi dica. Io molto poco. Potrei profiterne? No, la paura degli agliani è quella. Più tardi spiegherà di essere contrario sia al prelievo forzoso che alla patrimoniale. Nel frattempo al Quirinale cominciano le consultazioni Lampo. Tutto in un giorno anche il PD, che aveva fissato la sua direzione alla 17, per essere al Colle a 18.30, ultima delegazione di partito, la direzione sarà anticipata alle 4.00. Nel frattempo sul nome di Renzi il tam-tam si fa assordante. Arriva persino l'endorsement, ma a titolo personale, di Sandro Bondi, fedelissimo del Cavaliere. E anche al Colle, dopo i silenzi di Grasso e Boldrini, Ignazio Larussa, pur annunciando i suoi fratelli d'Italia all'opposizione, fa la sua apertura. Renzi sarebbe un segnale di cambiamento. Non così vendola che, Renzi o non Renzi, si chiama fuori da quello che bolla come governissimo. Questa alleanza non è, a nostro giudizio, la soluzione ai problemi drammatici del Paese. Se sarà governissimo, per noi sarà il tempo dell'opposizione. Dal quartier generale della Nato, a Bruxelles, Monti, forse l'ultimo impegno internazionale di governo, non si sbilancia. Spero che in genere le mie parole si riferiscono all'orizzonte di conoscibilità a mia disposizione, che in genere copre il passato e quando va bene il presente, non il futuro. A Palazzo Grazioni, all'ora di pranzo, si unisce il vertice del PDL. Sul nome di Renzi nessun commento ufficiale, ma Berlusconi non sarebbe entusiasta di questa soluzione. L'aria sembra cambiare. Sul nome del sindaco di Firenze sembrano esserci difficoltà. Gli uomini a lui vicini predicano prudenza. Lo stesso diretto interessato, arrivando alla direzione PD, sembra chiamarsi fuori. Quanto a me mi pare l'ipotesi più sorprendente e meno probabile, e quindi non credo proprio che sia sul tappeto. Realismo o scaramanzia. Ritorna in auge amato, ma soprattutto cresce Enrico Letta. Il PD dirà sì al governo di convergenza le condizioni di Napolitano. Renzi le traduce così. Non saremo noi ad avanzare nomi, ci rimettiamo alle scelte di Napolitano. Dal Quirinale intanto, Maroni fa sapere che la Lega sarà all'opposizione, ma collaborativa, ad una condizione. Sarebbe impossibile aderire ad un sostegno se l'incarico venisse dato a Giuliano Amato, tra i nomi che si fanno, o a un incarico a chi, secondo noi, rappresenta un governo tecnico come Mario Monti. Negli ultimi colloqui, esclusi i 5 Stelle, che si proclamano unica opposizione, la maggioranza del governo che verrà. Scelta civica conferma esclusi pieno. Lo stesso fa Berlusconi. Un governo forte, che possa prendere provvedimenti importanti e che non sia un governo di passaggio, ma che possa essere un governo duraturo, fondato su... Andiamo in diretta dal Quirinale. Letta. Buonasera. Abbiamo illustrato al Signor Presidente della Repubblica le decisioni della riunione della Direzione Nazionale del Partito Democratico, che oggi pomeriggio, a larga maggioranza, ha deciso appunto quello che abbiamo illustrato al Presidente, cioè la disponibilità e la volontà del Partito Democratico di concorrere alla nascita di un governo, di un governo sulla scia delle indicazioni del discorso che il Presidente della Repubblica ieri ha espresso di fronte al Parlamento. E in particolare abbiamo illustrato i due punti che la Direzione del Partito Democratico ha considerato quelli essenziali. Innanzitutto la questione chiave è quella dell'emergenza economico-sociale, il problema del lavoro che non c'è, della disoccupazione giovanile, la questione soprattutto di far cambiare linea a un'Unione Europea che fino a oggi su questi temi non ha dato le risposte sufficienti. E in secondo luogo il grande tema della riforma della politica, con la necessità di dare risposte perché le istituzioni oggi e la politica non è sufficientemente credibile. Queste risposte necessitano scelte che in tempi certi cambino la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un Senato delle Regioni e diano la possibilità di una nuova legge elettorale che consente ai cittadini di scegliersi direttamente i propri parlamentari. Senza riforma della politica non c'è possibilità di via di uscita dalla crisi. Queste sono le indicazioni che abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica. Ci atterremo alle scelte che il Presidente della Repubblica nella giornata di domani compirà. Grazie. Non risponde a domande Enrico Letta, tra poco ci collegheremo allora con la nostra Alessandra Sardoni per sapere di più e anche per capire Alessandra, che mi sente Alessandra Sardoni, per capire se e quando uscirà un comunicato oppure una voce della Presidenza della Repubblica, magari quella dello stesso capo dello Stato. Ma si diceva che è il PD l'epicentro di tutto. Oggi abbiamo sentito la dichiarazione di Letta che non ci dischiude però una visuale sulla durata inusuale di questo incontro al Quirinale né sulle voci che vi abbiamo riferito riguardo a un veto alla candidatura di Matteo Renzi. Ma oggi quel che è sicuro è che c'è stata una tesa riunione della direzione del PD. Il Partito Democratico si affida in toto a Giorgio Napolitano al suo tentativo di formare un governo politico di scopo del Presidente o di larga intese che sia e mette a disposizione le proprie forze e personalità del partito utili a formare l'esecutivo come recita l'ordine del giorno finale. Qualcuno la chiama una resa, votano contro solo in 7, 14 gli astenuti, tra loro i giovani turchi, Fassina escluso, Prodiani, Bindi e Civatti. La direzione PD che segue i giorni più neri del partito comincia in un clima di grande tensione nella riunione che viene anticipata di un'ora e compresa in 90 minuti per partecipare poi in Quirinale alle consultazioni Lampo di Napolitano. I più considerano l'affidavita al capo dello Stato come unica scelta possibile. Dalla riunione non escono nomi. L'atteso endorsement a Matteo Renzi arriva soltanto da Umberto Ranieri, esponente comunque molto vicino a Napolitano. Apre il segretario dimissionario Pierluigi Bersani, hanno affondato Marini e Prodi per colpire anche me, abbiamo missile attestata multiple, ironizza, che conferma la sua decisione. Io confermo qui le mie dimissioni, avete capito, no? Perché credo che siano utili al partito, per guardare in faccia il problema senza occultarlo illusoriamente, ancora una volta. Il problema è di fondo, strutturale, dice Bersani, non abbiamo retto alla prima prova per difetti di anarchismo e feudalizzazione del partito che persistono. Il segretario uscente invoca un principio d'ordine che dovrebbe segnare il recinto di un partito, un soggetto, non uno spazio politico, non un autobus, un ascensore o un nido del cuculo, la metafora bersaniana. Segue il dibattito acceso e teso sul governo. Dario Franceschini e Anna Finocchiaro sono i più convinti i sostenitori della linea del Colle. A Napolitano non possiamo dire nì, insiste l'ex segretario, siamo a un bivio. Opposto al giudizio di Matteo Orfini che vuole ancora cercare il consenso grillino e mettere dei paletti e la disponibilità democrat a Napolitano. Non possiamo fare una cessione di sovranità, dice. Noi abbiamo anche il dovere di chiarire in quell'alveo quali sono i paletti, quali sono le responsabilità che il Partito Democratico, se vuole essere un partito... Orfini non esplicita come aveva invece annunciato il nome di Renzi, lo attacca duro Franco Marini. Dinanzi a questa cosa mi dici che hai interpretato il discorso di Napolitano, devi riprendere il discorso sui 360 gradi, ma perché speri che Grillo con la sua strategia, che si dovrebbe anche offendere che gli vanno a cercare di fregare qualche voto che non serva a niente, Grillo dica di sì alle tue preoccupazioni. Duro contrasto anche tra Deborah Serracchiani, Reduce della vittoria in Friuli e Bersani sulla conduzione della vicenda Quirinale. Rosi Bindi si schiera contro ogni ipotesi di governissimo e ripete il suo no a Letta Premier. Se votiamo qualche cosa nella quale non è chiaro che la nostra responsabilità continua a distinguerci dalla nostra alternatività, ho qualche difficoltà a votare a favore. Alla fine il sì a qualsiasi ipotesi napolitano porrà, è comunque quasi unanime, oltre il 90% dei membri della direzione, come sempre in casa PD, ecco da dove vengono i franchi tiratori quando il voto è segreto, stigmatizza il prodiano professor Parisi. Evocato come salvatore della patria ma senza aver ricevuto alla fine alcuna investitura, Renzi sembra sfilarsi. La sua corsa a Palazzo Chigi per ora tramonta. È stato nominato, come si dice, ma nel modo dei reality. Allora andiamo da Alessandra Sardoni. Le parole di Enrico Letta domani, Napolitano farà sapere, fanno capire che c'è ancora qualcosa che non quadra. Esattamente, fanno capire che ci sarà almeno un'altra notte di riflessione, perché qui ci ha detto l'ufficio stampa, non succederà niente in questo momento, nel senso che non ci sarà né un comunicato di Napolitano, né uscirà Napolitano, né uscirà il segretario generale Donato Marra a dirci qualcosa. Quello che ci hanno fatto capire è che è ragionevole supporre che dopo le 11 di domani mattina possa accadere qualcosa e venire conferito l'incarico, perché prima delle 11 Giorgio Napolitano deve andare alla Camera Ardente di Antonio Maccanico. Quindi sicuramente ci sarà anche questo tempo da calcolare nel timing di questa giornata. Poi, naturalmente, le parole di Enrico Letta sono molto significative, si è anche ragionato naturalmente in questo caso tra indiscrezioni, voci e riflessioni sulle ragioni della lunghezza del colloquio e oltre a quelle che abbiamo detto, cioè la scelta su un nome sulle quali non c'è nessun tipo di indiscrezione ad ora, bisogna naturalmente ancora aspettare, naturalmente c'è la preoccupazione sui numeri, soprattutto al Senato e poi la questione anche della squadra, di un eventuale esecutivo, degli equilibri da tenere, ma sembra che la preoccupazione sui numeri sul Senato, che comunque è in presenza di defezioni nel campo PD, possa essere un elemento di preoccupazione e forse su questi numeri Napolitano ancora una volta potrebbe aver chiesto garanzie esplicite. Grazie a Alessandra Sardoni che ci ha ricordato, tra l'altro, con la visita di domattina alla Camera Ardente da parte di Napolitano che è morto Antonio Maccanico, una figura importante della storia di quella che noi ormai chiamiamo la Prima Repubblica, ha 88 anni, è stato segretario generale del Quirinale ai tempi di Pertini, ma è stato anche sottosegretario alla Presidenza Conciampi, è stato più volte Ministro, anche Ministro delle Comunicazioni ed è stato anche Presidente di Mediobanca, una figura importante dell'establishment italiano. Ma oggi è stata anche la giornata della più forte dissociazione da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti della situazione così come si sta profilando con un governo del Presidente che sta prendendo forma. Abbiamo anche detto al Presidente con molta schiettezza che per le modalità della sua elezione c'è il rischio che possa essere considerato un uomo di parte e gli abbiamo chiesto e lui si è impegnato con i suoi fatti, con la sua azione futura invece di dimostrare a tutto il Paese che lui sarà comunque una figura di garanzia. Gliel'hanno ripetuto in faccia. Per quelli del Movimento 5 Stelle, Giorgio Napolitano non è il capo dello Stato di tutti ma piuttosto l'uomo di PD e PDL. Scelto secondo un preciso disegno quello di isolare il Movimento, aggiunge ancor più gelido Crimi. Appare evidente che è stato tutto già programmato e deciso anche per il modo con il quale si è proceduta l'elezione del capo dello Stato. Noi abbiamo un programma e siamo pronti a fare i nomi per il governo ma rimaniamo indisponibili ad ogni altro tipo di soluzione, aggiungono i capigruppo Crimi e Lombardi, saliti al Quirinale dopo un confronto interno ai parlamentari tra chi sosteneva che in polemica con la sua rielezione il Movimento non doveva nemmeno incontrare il capo dello Stato. Atteggiamento polemico in linea con quello del leader Beppe Grillo, di nuovo durissimo contro la rielezione di Napolitano già bocciato. Sabato sera come colpo di Stato. Se domenica era diventato un golpettino furbo, oggi al quotidiano tedesco Bild Grillo parla di nuovo di colpo di Stato subdolo, aggiungendo i vecchi partiti stanno lottando per la sopravvivenza ma in autunno l'Italia farà bancarotta, spero che ci invadano i tedeschi, le parole di Grillo. Giudizi che diventano ancor più velenosi nel pomeriggio. Grillo sul suo blog spara a zero contro Napolitano, PD e PDL. È successo un fatto straordinario in quest'ultimo fine settimana di vomito. Il matrimonio sceno tra due amanti, il PD e il PD-L, che copulavano da vent'anni per la nomina di un ottuagenario spacciata come gesto di responsabilità. Cazzi ai partiti come se non ne fosse la più alta e storica testimonianza, aggiunge ancora il leader dei 5 Stelle che per non lasciare niente al caso spedisce una frecciata anche al possibile candidato democratico a Palazzo Chigi, Renzi, ricordando le sue prese di posizione a favore di Marchionne e della Fornero. Nessun dialogo con nessuno. La questione non è generazionale, precisano. Crimi e Lombardi, mentre dalla Sicilia arriva un altro elemento di rottura con il fronte del centro-sinistra. È saltato il cosiddetto modello Crocetta. Anche qui c'è l'inciucio PD-PDL. Il governo Crocetta ha preso una strada di rottura. La rivoluzione è finita. Prima di cominciare scrivono in serata i 15 deputati 5 Stelle dell'Assemblea regionale siciliana. Per me il dialogo resta aperto. Replica da Roma, il governatore. Sul sito Grillo ha pubblicato stamattina i numeri anche delle Quirinarie. I votanti sono stati solo 28.000 sui 48.000 aventi diritto. Prima classificata Milena Gabanelli con 5.796 voti, secondo Gino Strada. Stefano Rodotà è arrivato terzo ma, diventato il candidato presidente per la rinuncia dei primi due, aveva ottenuto 4.677 voti. Romano Prodi, che se era classificato ottavo, ne aveva ricevuti 1.394. Non sappiamo il motivo per cui la crisi di governo non ha trovato già questa sera una soluzione. Perché Napolitano si riserva tempo fino a domani. Non sappiamo se davvero Matteo Renzi è stato stoppato, come abbiamo ipotizzato all'inizio del telegiornale, dal no, dal veto di Berlusconi. Quel che è certo è che da quando appunto la storia politica di questi giorni ha imboccato la strada delle scelte con il voto su Napolitano e adesso la stretta sulla crisi di governo, la borsa ha cominciato a andare bene. Una trentina di mesi spariti, evaporati e stavolta non è per la solita malignità statistica. Stavolta è un traguardo voluto, atteso, cercato. Se proprio si volesse definire un preciso punto nel calendario dei ricordi più vividi, bene allora, oggi lo spread è retrocesso, ma è un bel effetto dirlo, a ottobre 2010, ai giorni in cui esplose lo scandalo rubi. Eccola, non c'entra niente, sembrerebbe errore. Fu invece veramente l'inizio di una precisa fase storica che si fece politica, fase che oggi i mercati decretano algoritmicamente chiusa, sembrerebbe. Fatto sta che i minimi dello spread odierno si rimangiano due anni e più, chiusura sui 270, ma bandierina sui 265 punti che fanno rendere al decennale il 3,93%. Siamo sotto le colonne d'Ercole del 4%, è un sollievo. Ed è, in tutti i commenti, la concretizzazione matematica dell'effetto napolitano. Perché la continuità è meglio dell'incertezza, la palissiano, sui mercati e magari non solo lì. Le borse oggi alla grande, Milano quasi il più 3%, con volumi altissimi, finalmente si compra Italia, va bene tutto, resta più indietro, si fa per dire, solo francoforte. Un segno però, al di là dell'entusiasmo per il giorno perfetto, il sibilo è che anche la Germania ora segni il passo, economicamente i dati dicono che è ferma. Un problema tedesco è un problema di tutti. Della euromacchina lei è il motore, o buona parte, così oggi si è diffusa la voce che proprio le vicissitudini tedesche convinceranno la Banca Centrale Europea a varare operazioni di stimolo, magari il tanto desiderato taglio dei tassi invocato da tempo, da tutti, ora anche da lei. Ubi Maier forse si procede, nelle ore in cui la liberazione della liquidità di risorse è il tema. Mentre il saggio Giovannini, presidente dell'Istat, ammette che il rimborso dei crediti non ha effetti certi, non a caso in un'audizione il direttore per la ricerca economica della Banca d'Italia, Daniele Franco, strettissimo collaboratore di Bisco, ha spiegato che l'Italia ha bisogno di un'azione ampia perché uno, soffre di troppi ostacoli alla crescita a causa delle tasse troppo elevate, 54% di pressione reale nel 2013, denuncia oggi Confindustria. Due, serve certezza sul gettito dell'Imu, altrimenti tre, si rischia di non centrare l'obiettivo del deficit al 3% e far saltare i conti. Quelli familiari di conti, peraltro, sono già saltati. Il 70% delle famiglie ha tagliato la spesa per cibo e sanità e molti vanno a caccia dell'ultimo 3x2 nei discount. I consumi sono tornati indietro di anni e anni e questo sì, succede per malignità statistica. È un fatto importante, storico, e forse ci saranno ancora polemiche e colpi di coda, ricorso sicuramente alla Corte Costituzionale, ma appunto oggi l'Assemblea Nazionale Francese ha detto il sì definitivo al matrimonio gay e all'adozione da parte di coppie omosessuali. Le coppie omosessuali al pari di quelle etero, con gli stessi diritti, libere di sposarsi e di adottare bambini. È legge in Francia la storica riforma che sancisce la libertà di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dopo mesi di una dura battaglia combattuta nelle piazze e nelle aule parlamentari, il Via Libera definitivo è arrivato questo pomeriggio con il voto dell'Assemblea Nazionale Francese. 331 i voti a favore, 225 quelli contrari. Applaudono in aula i vincitori politici, i socialisti del presidente François Hollande, promotori di un provvedimento che i conservatori e la Chiesa Cattolica Francese hanno osteggiato con forza e non si dà affatto per vinto il fronte del no. L'UMP, il principale partito di opposizione, ha già presentato ricorso alla Corte Costituzionale. I magistrati avranno un mese di tempo per pronunciarsi prima che il testo venga promulgato e diventi operativo. Le prime unioni civili verranno celebrate a giugno prossimo, ha promesso oggi commossa la ministra della giustizia, Christiane Toubirat, promotrice della legge. La Francia diventa così il quattordicesimo paese al mondo e il settimo in Europa, nel quale gli omosessuali possono sposarsi e adottare. Una rivoluzione profonda, considerata dai francesi la più importante riforma dopo l'abolizione nel 1981 della pena di morte e che per questo ha letteralmente spaccato l'opinione pubblica, ridefinendo il concetto stesso di matrimonio, quello di famiglia, di maternità e di paternità. A tutto questo la Francia non sarebbe pronta, secondo i conservatori, che contestano in particolare la libertà di adozione da parte di genitori dello stesso sesso. E infatti, mentre il Parlamento dava il via libera al provvedimento, centinaia di persone si riversavano in piazza a Parigi, mobilitate da una parte dai movimenti cattolici, contrarie alla legge, e dall'altra dai movimenti per i diritti gay. Una spaccatura profonda che nelle prossime settimane prenderà forma nelle strade di Parigi, dove i conservatori hanno già annunciato di voler organizzare una grande mobilitazione. Allora, non c'è più tempo per altre notizie, la situazione è stabilizzata, non sappiamo null'altro riguardo alle intenzioni del Capo dello Stato, che evidentemente domani scioglierà auspicabilmente la sua riserva e comunicherà il nome del Presidente incaricato. Noi, prima di fermarci, vi ricordiamo che a otto e mezzo l'ospite è Matteo Richetti, esponente di punta di quella che possiamo definire la componente renziana del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. A tra poco. Brevissimamente anche la borsa di New York è inattivo e sta progredendo il Dow Jones dello 0,92%. Vi lascio otto e mezzo, buonasera domani.